Ma perché lei dice che la Nato è coinvolta in questo conflitto? A me non risulta. A me risulta che qualsiasi decisione sia stata presa dai singoli stati e non ci sia stata una delibera della Nato. E infatti dovrebbe stare attento a quello che dice, perché il Consiglio del Nord Atlantico non ha mai deliberato un'azione ostile nei confronti della Russia, né nei confronti della difesa dell'Ucraina. La facciamo con Putin, che è un po' lei ha paragonato a Stalin, che per noi era tra i vincitori. Beh, io non so se Putin sia tra i vincitori o no. Sicuramente Putin non è peggio di Stalin. E quindi vale la pena negoziare una pace, perché ogni giorno di guerra vuol dire morte, distruzione e povertà.